Io tutta questa grande differenza di categoria non la vedo, no vabbè, a parte gli scherzi ragazzi, a tanto così, a tanto così ci sono andati, non faccio l'anti-interista, faccio semplicemente quello che si è divertito, perché può dire quanto è bello il calcio, al di là di tutto, al di là che ci sono andati vicini, che alla fine l'ha spuntata l'Inter e i calci di rigore, si potrebbero trarre un sacco di conclusioni, ma questo video lo voglio cominciare così. Che bello spot per il calcio ci ha dato il Pordenone in questa partita, in questa nottata, questo video uscirà, non lo so, a 10 minuti alla mezzanotte, non so quanti se la possono vedere, ma qui sotto tutti i commenti, hashtag complimenti Pordenone, perché davvero ci hanno fatto innamorare di questa squadra, è da, non lo so, un mese che l'avranno preparata, perché adesso ora non voglio buttare, merda, sull'Inter, perché c'è tutta questa differenza, dalla Serie A sono primi in classifica, quindi dovevano vincere 8-0. Si sa, quando trovi una squadra che corre, ci mette applicazioni, grinta e sacrificio, farai fatica, questo può anche trarre altre conclusioni, può trarre la prima conclusione, che l'Inter ha il terzo impegno durante la settimana, credo, dopo quello con il Bologna, pareggio, e dopo quello con la Sampdoria, vittoria, ma dopo il 3-0, ma avevi preso due gol sul finale e rischiavi, l'Inter quando ha impegni durante la settimana va nel pallone. Va bene, non avevamo giocato tutti i titolari, c'erano soltanto Skriniar, sono dovuti entrare Perisic e Icardi per risolverti una partita del genere, hanno avuto sfortuna, ma anche ricordo il palo del Pordenone, quello mi cambiava la partita completamente. Quindi ragazzi, alla fine queste sono un pochino le conclusioni. Il fatto che l'Inter si vede che quando gioca durante la settimana, impegno che non ha mai, dà il peggio di sé, perché purtroppo non ha neanche... Cioè, hai i ricambi, in effetti che sto a dire, i ricambi ce li ha, i terzini volendo li cambi, non hai i cambi forse come prime punte, non hai gli esterni di riserva che ha la Juventus, ovviamente, perché hai un mercato che si è basato sul fatto di quale competizione vai a giocare durante l'anno, hai un difensore di riserva che si chiama Ranocchi, infatti l'altro poteva essere tanto Skriniar, un portiere che ti ha salvato dei rigori, ma poi chi? Un portiere Padelli, insomma. Parliamone, non voglio di certo ancora sminuire l'Inter perché ci può stare che se tu incontri la squadra che ti fa la prestazione e ti tieni incolato sullo 0-0 e non riesci a trovare gol. Mettici un po' di sfortuna, mettici un po' che comunque il Pordenone va ringraziato per tutto, per come la pagina di Facebook che hanno creato, non so se è loro una fake, guardate, l'hanno fatto dei meme da una settimana, da un mese per preparare questa partita con i pullman, l'entusiasmo, tutti a San Siro a incitare. Io sono rimasto incolato allo schermo a vederla tutta, non c'è da fare troppi demeriti all'Inter se fossi un tifoso nerazzurro perché di fatto quando trovi una squadra così puoi far capire benissimo, sì, che forse in Italia non ci sono queste grandi squadre che ti fanno capire questa differenza abissale dalla prima categoria alla terza alla quarta, però insomma complimenti al Pordenone. Alla fine ci hanno fatto divertire il loro obiettivo, alla fine era quello, ci sono andati tanto così, tanto così da un quarto di finale storico perché l'anno scorso anche l'Alessandria ci arrivò vicino, mi sembra quella squadra lì, contro il Milan che arrivò molto lontano. Quest'anno invece il Pordenone ci è andato molto vicino. Sono contento per quello che è venuto fuori perché la partita alla fine doveva promettere il giusto spettacolo che c'è stato. Niente, ci vediamo domani qui sotto nei commenti, comunque complimenti Pordenone perché è grazie a loro se il calcio a volte ci regala anche delle belle emozioni. Buonanotte ragazzi.